Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo a Jiyugaoka perché sono qui. Praticamente sapete quelle specie di campagne, quei post su Instagram dove venite taggati e praticamente c'era in palio diciamo una specie di un bento vegano e praticamente questa mia amica mi ha taggata, io ho partecipato, ho a mia volta taggato altre persone ho commentato e niente non pensavo di vincere e invece il giorno dopo mi arriva un messaggio che ho scritto praticamente di andare a ritirare questo bento in un ristorante vegano qua vicino e quindi adesso andiamo a ritirarlo. Eccomi arrivata, è la prima volta che vengo qua quindi non so comunque vedo 101 saldo e la prossima volta ci verrò sicuramente a mangiare bellissimo tra le piante, tra la natura come piace a me qua c'è un fratto magnifico e qua ci sono anche altri ristoranti e negozietti che bello ed eccomi qua uscita dal ristorante con questo bento vegano non vedo l'ora di aprirlo e vedere cosa c'è e mangiarlo ovviamente, però aspetto di arrivare a casa. Intanto vi mostro un po' qui Ci sono stata praticamente solo due volte e è molto carina, mi piace perché è abbastanza in file europeo e c'è anche una specie di piccola Venezia, piccola Italia con la gondola e tutto e adesso se mi ricordo dov'è ci porto, molto molto particolare guardate quel bar lì se non vi ricorda un po' il bar in Italia con i vecchietti fuori che fumano a me ve lo ricordo altrettanto adesso non mi ricordo dov'è questa specie di piccola Italia quindi sicuramente ci sarò perso anche qua mi ricorda un po' non so l'Italia con questi negozietti, questa piazzetta la panchina, le panchine non so voi ma quelle casettine lì, l'appartamento mi ricorda un po' quegli appartamenti che si trovano al mare cioè poi con questo caldo sinceramente mi viene proprio voglia di mare una voglia di mare assurdo veramente sì di solito non mi perdo eh cioè ho detto che mi perdo ma io mi perdo, mi perdo, mi perdo ma poi trovo sempre la strada perché tutte le strade portano a Tokyo qui c'è quello di Gimani, di Pertiana ecco mi sono persa però ho trovato un altro tempio wow che meraviglia wow mamma mia la natura no guardate che meraviglia cioè io veramente oh mamma sembra di stare in unanime wow wow ci mettiamo la monichina wow che bello guardate che dettagli oasi di pace con le farfalle con gli omikugi è grande questo tempio ma dove sono entrata io? wow butto la mia monichina non ce l'ho da 5 e la inserisco da 10 sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti con le bavagliette però fa caldo i pupazzetti e le caramelline in dono i pupazzetti Come vedete ci sono praticamente tanti ristoranti italiani o comunque negozi di vestiti italiani o francesi, è tipo una specie di piccola Europa. Guardate che carina questa casetta, in realtà sotto c'è praticamente un negozio, mi sembra uno studio. Adesso vi faccio vedere, non so se si vede, ecco ci sono praticamente le poltroncine, c'è la luce lì per scattare le foto ed è uno studio per cagnolini, fantastico. E sopra invece ci sono gli appartamenti, ho visto degli stendini, sopra qua si abitano, è fantastico questo posto, qui dentro c'è anche un cagnolino, un piccolo barboncino. E qua penso che invece appunto vendano i vestitini, si vedono degli abitini, che carini, vedo già i prezzi dai, 50 euro. Finalmente sono arrivata, non mi sono persa, oggi devo dire che c'è un sacco di gente purtroppo, cioè non qua per fortuna. Guardate, stiamo a Venezia! Bellissimo, è stupendo! Certo, non quanto la vera Venezia, ma è molto caratteristica anche per fare appunto degli shooting, delle foto, insomma, matrimoni. Una libella! Spiegatemi cosa ci fa una cuccia in mezzo, soprattutto il cane, come fa ad arrivarci qui a Venezia. Spiegatemi cosa ci fa una cuccia in mezzo, come fa ad arrivarci qui a Venezia, come fa ad arrivarci qui a Venezia, come fa ad arrivarci qui a Venezia. Spiegatemi cosa ci fa una cuccia in mezzo, come fa ad arrivarci qui a Venezia, come fa ad arrivarci qui a Venezia. Spiegatemi cosa ci fa una cuccia in mezzo, come fa ad arrivarci qui a Venezia, come fa ad arrivarci qui a Venezia, come fa ad arrivarci qui a Venezia. C'era praticamente un cielo stupendo, veramente, e sono solo le 6, e si è tipo tutto scurito, lampi, urmini, e speriamo di arrivare in tempo a casa perché non ho l'ombrello. Arriva il gran tifone. Sì, sì, sì.